Si potrà pagare il 30% e meno della Tari la nuova tassa sui rifiuti se si attua il compostaggio. E' una delle principali novità del regolamento Tari che presto verrà pubblicato all'albo pretorio del comune di Partinico diventando così ufficiale. Una delle tante proposte fatte dai consiglieri di opposizione ed in particolare si tratta di un emendamento presentato dai consiglieri comunali Maria Grazia Motisi e Francesco Di Trapani che è stato votato dal Consiglio Comunale ed entrerà in vigore a breve. Dunque sarà possibile usufruire di una riduzione del 30% della quota variabile della Tari se si è dotati di compostiera fornite anche dal lato fino a qualche anno fa o se si attua il cosiddetto compostaggio in cumulo soprattutto per chi abita nelle contrade tassate ad un ampio terreno a disposizione. Sì abbiamo voluto cercare di accelerare una delle poche agevolazioni che il regolamento Tari ha previsto cioè quella sul compostaggio. Lo ha previsto su iniziativa dei consiglieri di opposizione e questo però rischiava di essere soltanto uno specchietto per le allodole perché l'emendamento che è stato stilato da proposto anche da noi è stilato poi presentato sottoscritto dai consiglieri di Trapani e Maria Grazia Motisi in realtà dice che l'agevolazione deve essere richiesta entro il 31 dicembre dell'anno precedente al quale si vuole soffrire diciamo a quello di cui si vuole soffrire dell'agevolazione. Quindi che cosa sarebbe successo e che cosa potrebbe succedere? Che si oltrepassi il primo il 31 dicembre 2003 e 2014 e quindi neanche per il 2015 questo tipo di agevolazione sarebbe da applicare ai cittadini. In cosa consiste? Il 30% di sconto sulla quota variabile della tasso per chi effettua compostaggio o per chi decide di effettuarlo o tramite il composter, lato rifiuti inizialmente negli anni passati lo dava, lo concedeva oppure attraverso le tecniche che nei terreni, soprattutto nei coloro che stanno nelle contrade che vengono tassate tramite le tecniche del cumulo e tante altre tipologie di compostaggio che esistono vedersi applicare questo sconto. Ora se il settore tributi non predispone questo modello o questa istanza entro il 31 dicembre c'è il rischio che per il 2015 il cittadino non possa soffrire di questa agevolazione. Allora noi cosa abbiamo voluto fare? Abbiamo voluto perfino predisporre una bozza di modello che abbiamo inoltrato agli uffici affinché si acceleri questa operazione e auspichiamo che l'amministrazione comunale e il settore tributi lo accolga quanto prima possibile ma soprattutto lo pubblicizzi per dare l'opportunità ai cittadini di trovare dei metodi per pagare meno ma soprattutto per educare la cittadinanza a un diverso tipo di gestione dei rifiuti e a una riduzione dell'impatto dei rifiuti. Fare compostaggio significa conferire meno umido in discarica e quindi risparmiare poi anche sui costi di gestione.